Operai al lavoro per gli ultimi dettagli, transenne e deviazione al traffico. A Bari è tutto pronto per il concertone di Capodanno, per il quale sono attesa in Piazza Libertà dalle 5 alle 10.000 persone. Cittadini e turisti si ritroveranno a partire dalle 22 sotto il palco allestito davanti alla sede del Comune di Bari per Insieme nel 2024. L'appuntamento musicale che vedrà esibirsi Coez fra Quintale e Dermalmeta, con collegamenti con il Capodanno in Musica in diretta nazionale. Un appuntamento supportato anche da Quedotto Pugliese che come di consueto promuove la sostenibilità di un evento nel quale il grande pubblico sarà garantito l'approvvigionamento di acqua tramite apposite colonnine di distribuzione. Grande attenzione anche alla sicurezza grazie ad un importante dispiegamento di forze dell'ordine e una gestione capillare della viabilità e delle vie di fuga. Siamo comunque qui oggi a Bari per garantire chiaramente la sicurezza e la più fluida circolazione veicolare pedonale, tenendo conto che comunque la festa di stasera comunque chiamerà tanta gente. Siamo comunque qui oggi stasera comunque impegnati con 270 unità e durante comunque la giornata di domani con circa 200 unità. Vi raccomandiamo come Polizia Locale il più possibile comunque che l'afflusso sia effettuato con mezzi pubblici. Consigli utili a vivere in totale sicurezza è una serata di grandi emozioni e divertimento, per cui c'è addirittura chi si mette in coda dalle prime ore del mattino. Siete qui dalle 6 di questa mattina per il concertone di stasera? Sì, per Ermal però. Queste ore come le trascorrerete qui? Sicuramente stando tra di noi perché veniamo da varie parti d'Italia, quindi è anche un modo per stare insieme. Venire così presto per accappararsi proprio la prima fila sotto palco? Sì, 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 è un vizio tra virgolette che abbiamo.